C'è l'aspetta Abbiamo addobbato questo tavolo manco fosse l'albero di Natale dei poveri E poi avevo lo spumante in fresco Mi sono messo la cazzo di caravatta E tu mi vieni a dire che... Eh? Non è che non ti sento la cavata Porco di merda C'è che devo fare da capo grazie No no facciamo un taglio Cos'è che abbiamo per le pappe Vai Un applauso a quel brutto down di merda Però comunque è un comore No cioè Abbiamo preso sto tavolo Lo abbiamo addobbato manco fossero resino E tu mi vieni a dire Che la notizia che tutti stavano aspettando non c'è Ascolta E' normale che io avendo un fanbase di merda Puoi darti quello più nostro Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale Io sono Zeffo e oggi cominceremo una nuova rubrica Quella delle recensi opinioni Quella dove cercheremo... Ciao ragazzi e bentornati... Come dice il nome Cercheremo di non fermarci alla mera Per quanto ci sia possibile Recensione Ma cercheremo anche di darvi la nostra personalissima opinione Sui videogiochi in questione E tratteremo videogiochi per qualsiasi propria... Porco Come dice il nome Cercheremo di non fermarci Per quanto ci sarà possibile Alla mera recensione Ma cercheremo anche di darvi una personalissima opinione Riguardo ai videogiochi che proviamo E cercheremo di trattare i videogiochi per qualsiasi... Eeeeee 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 Come dice il nome No Come dice il nome Cercheremo... Come dice il nome Cercheremo di non fermarci alla mera Per quanto ci sia possibile Recensione Ma cercheremo anche di dare i nostri personalissimi giudizi Riguardo ai videogiochi che proviamo E tratteremo... Pfff Proprio per primo... E proprio per il primo video Ho pro... Eh sì Ma... Pfff 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 A cui puoi darmi la merda e guadagnarci anche? Pfff Cazzo c'è lì così E non è così E non è così E non è così E così E così Pfff 5 euro per favore Pfff 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 E inoltre una regione incredibilmente varia di Eva per quanto riguarda per quanto riguarda Stateci bene, ci vediamo al prossimo video E comunque la tanta generazione è più bella Ciao Backstage, signori backstage Questo qua è il tripiede dove mettiamo sulla nostra bellissima videocamera Queste qui sono le cose che ci siamo appuntati E siccome siamo due idioti non ce le ricordiamo neanche E qui saranno due ore che stiamo registrando Lì c'è il computer dove si vedono cose brutte E qui c'è una persona molto brutta E lì c'è una porta Anzi c'era solo due C'era un'altra Ciao Quella lì però conduce praticamente nell'omniverso Non deve essere aperta perché altrimenti te riesce il nostro signore padrone l'oscuro Paed E praticamente l'abbiamo suggerita con una comoda chiave Tutto questo per non permettere la sua venuta Anche perché dopo ci ruba praticamente la nostra mascotavone Come facciamo, no? Eh già Siamo tutti qui riuniti Per poter Osservare Un Un evento Eccezionale Pacco levati dalle palle Ovvero A one che dorme Osservate Down Nessun ambiente naturale Adesso Faccio ridere Per poter Grazie per la visione!